Ma mi piace la riflessione che il Papa fa della santità giovane. Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santici, dice il Papa, che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. È bellissima questa riflessione sui santi come riflessi di Cristo che ci stimolano a far uscire dalla sonnolenza. Io penso che il grande messaggio di Padre Placido è questo, tenere sveglio il nostro cuore. Accendere questa luce, questo riflesso di Cristo, questo illuminarci. E proprio legato ad illuminarci, vi invito...